Per oltre un secolo, il governo ha desterato e impiegato animali come agenti di spionaggio. Ma ora è stata fatta una scoperta che va al di là di qualunque cosa la scienza possa immaginare. Una squadra speciale di spionaggio chiamata G-Force. Blaster, Juarez, qual è la vostra posizione? Qui, Juarez, mi avvicino al primo obiettivo. Siamo in anticipo di 10 secondi perché Blaster è un posto di giri. Per forza, l'azione è la mia vita. È ora di dare inizio alla festa. Ok, vina libera. Blaster, su, ridagliati. Sembra facile. Ehi, Juarez, facciamo a chi arriva prima? Ok, pronti, partenza, via! Così non vale. Non è che ne pensi, Juarez, poi io potremmo lo sapere, no? Scusa, Blaster, lo sai che ho messo gli occhi su qualcun altro? No, veramente non lo sapevo. Chi è? Darwin. Perché Darwin? Perché lui è talmente, talmente disinteressato a me. Ricevuto, Juarez. Il suo ruotitore sarà pannorato. Attenti, arrivo io! Aiuto! Io l'ho fatta, Juarez, ce l'hai fatta! Andiamo via da qui, muoviamoci! Blaster, Juarez, che va a fare? Comunque, nel caso non avessi notato, ti ho salvato la pelle anche stavolta, Blaster. Che le dici di andare a cena per festeggiare? Leggi di forte, scherzo, facciamo un po' di fuoristrata. Perfetto, perché disinteressato? Ma che significa? Gli uomini sono come i buoni del tesoro. Hanno bisogno di troppo tempo per maturare. Ma se sei una donna che vuole avere successo tra gli uomini, devi imparare a pensare come loro e tenerli sulle spine. Torce gamba! Ma adesso, ce l'ho sentita che dicevi che sei interessata a me. Non sono interessata a te. Beh, non è quello che hai detto, Blaster. Non capisci. Io voglio che lui si interessi a me, e lui si interesserà solo se io non lo sono. Ah, ma sei interessata a qualcuno? Certamente. Ma non a me. No, no, no. Tu sai che puoi avermi, quindi non mi interessa nei miei confronti. Di conseguenza non mi interesseresti nemmeno se mi interessassi. Tieni le mani a posto, amico! Un cricito extra large, ecco a te. Prova a mettere il fiocco addosso e ti stacco un dito. Quella bambina non ha idea di quello che l'aspetta. Le metterai luci da labbra e lo smalto e... Un vestito. Un vestito? Allora ti stacco tutta la mano. Juarez, ricorda il piano. Lo so, manterrò la copertura affinché non avrò modo di scappare. No, per favore, no. Cosa no? Quanto buzza! Qui si sta violando la convenzione di Ginevra. Ai... Zobel Blaster, dobbiamo uscire da questo. Adesso un po' di rossetto. Non ce la faccio più, questo sarà il decimo vestito. Guarda quanto sei carina! Oh, mamma mia. Sembriamo Parisito nel suo Chihuahua. Sì! Sì! Non prego! Perché sei vestita da Fabi Porciolino Liglia? Ancora la parola è chi trasforma una pettina di colcino. Ma è comunque stai bellissimo! Adesso, adesso! Aiuto! Aiuto, aiuto! Chi non è neanche! Ma che funziona? Grande! Questo non mi serve, nemmeno questa, nemmeno questo. Questo invece penso che lo creerò. Buore, se sei una peggina. Ciao ragazzi! Carly! Sopravento, sottovento, troppo lento. Sì! Sì! Alla parola! Dovremmo appaggermla! Tieni ti forte! Tieni ti odi! Ti non sanno che si chiama della stessa squadra! Guarez! Portaci a casa di Saber! Ci penso io! Darmi, non bisogna di una mano! Coach, date la visuale di Guarez! Riesco a staccarmeli dalla coda! I fuori l'antificio! Allora, lo schiaccio questo piccolo miserabile! Se giochi col fuoco, finisce che ti sbocchi! La caccia! Come va ragazzi? Non limitateci! È stato fantastico! Lo rifacciamo? Senti, Guarez, non ce la faccio più! Possiamo sapere chi di noi ti interessa! No, no, Blaster! Il trucco è chiederle a chi di noi non è interessato! Guardate, guardate! Guardate, guardate! Guardate, guardate! Secondo me, invece, tu non hai alcun interesse per noi! Il che può significare che ci vuoi entrambi, oppure che non ci vuoi! E questo ci getta nella disperazione di non avere neanche un indizio! Ed è proprio questo che mi piace! Ragazzi, abbiamo i distintivi! E vai, che bello! Siamo agenti ufficiali adesso! Era ora! Niente male per il più gracile della mediata! Grazie per aver creduto in mia bella! No, agenti speciali! No, agenti speciali! No, agenti speciali!